Ritorniamo ai nostri taralli, li ho assaggiati per la prima volta questi prodotti in Romania, perché in Italia ne mangio tantissimi, sono una mega fan dei taralli, anche se io ho abitato al nord e non sono un prodotto tipico del nord, però mi piacciono tantissimo. E il motivo per cui mi piacciono, mi sembravano molto simili ad un prodotto rumeno, soprattutto come forma, perché il gusto è molto diverso. I taralli sono molto più friabili, più morbidi rispetto al prodotto rumeno che io associavo ogni volta che compravo e mangiavo i taralli. È un prodotto, come ho detto, che mi piace e lo trovo simile a quello italiano, però è fatto in Romania.